però si blocca di modi è partita guarda che si entra di qua c'è pieno di apia non so quanto passi mi provo a passare in mezzo cosa? proviamo non so però se becchi qualcosa vieni te la fai passare penso che si la becca è completamente buongiorno 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 a tutti buongiorno a tutti mamma mia anche se è tutta distrutta oh guarda che bella la sua grande fascino dove è stato? è da di là guarda tutto è aperto abbiamo fatto una sorpresa ragazzi la c'è? la c'è? ma sono piena adesso è un mega rido d'apia non ho fatto un'altra parte è vero aspetta che... nonoste pietre dopo puoi convertirli e buttarlo su youtube? si si aspetta che mi dà una mano no nonostante non sapevamo che fare abbiamo detto andiamo a farci un giretto una volta una volta era bellissima per me c'è qualcosa pensarti c'è qualcuno siamo su una cosa che non ho trovato una volta penso che era bellissima staviglia calcoliamo quanto fatta c'è qualcuno qua con noi mezzo orla aspetta che è passato un ombra passato un ombra qua puoi ripassare per favore forse qui sarà l'entrata petano non 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 ... 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